Amo il mio lavoro, da sempre. Cercare per voi nuove strategie di mercato è per me impegno e passione. Sono consapevole, accompagnandovi nelle vostre attività ed entrando nella vostra vita di attori del mercato, che lo scenario è cambiato e continuerà a cambiare. Formiamo la mente a cambiamento. Non facciamoci trovare impreparati dalle continue evoluzioni. Continuiamo a essere ancora più competitivi. Competitivo oggi significa rete. Uniamo le nostre esperienze e competenze. Facciamo squadra. Non dobbiamo mai smettere di crescere. È necessario essere attivi, farsi conoscere ed essere costantemente presenti. Vi propongo di creare una rete di imprese. Percorriamo insieme un cammino per un obiettivo comune. Fare la differenza. Grazie. 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 Grazie a tutti